buonasera ragazzi benvenuti e bentrovati a questo blacky moto vlog insolito mi trovo sopra a monteroni d'arbia e sono venuto a fare un paio di foto al tramonto infatti sono le 20 e 41 tra l'altro non mi sono messo niente sopra sono mezze maniche e si sta veramente bene quello è il tramonto che intendevo io e naturalmente c'è una nuvola nel mezzo ho portato la cam dietro perché avevo urgentemente bisogno di testare il nuovo sistema di controllo del guadagno del microfono quello che mi si è rotto qualche giorno prima dell'uscita con i ragazzi dell'africa twin club sezione toscana ovviamente il mio posto me lo hanno onculato come sempre pazienza potrei fermarmi qui un po da cinghiale e vabbè dai la foto la faccio da qui bello è però c'è un sacco di zanzare naturalmente il bauletto lo tolgo perché chiaramente è abbastanza osceno da vedersi la piantola a mezzo alle frasche se non da noi a nessuno ecco il sole giustamente è andato via vaffanculo e vabbè pazienza si fa lo stesso questa luce che si crea a quest'ora è veramente qualcosa di fantastico ma comunque per tornare a noi vi stavo dicendo appunto che ho preso la palla al balzo perché volevo testare il dispositivo di regolazione del guadagno del microfono fino ad oggi infatti mi si è rotto per ben tre volte e alla fine mi sono rotto le scatole di ricomprare il solito e ho cambiato modello purtroppo questa cam qua la sony fdr x 3000 per quanto riguarda il video è veramente un action cam eccezionale però per quanto riguarda l'aspetto audio purtroppo come avevo già ridetto in un video scorso a questo grosso problema che di default non permette di regolare il guadagno del microfono e se si attacca un microfono senza alcuna regolazione l'audio risulta sempre distorto quindi speriamo bene speriamo che questo funzioni ho provato una regolazione di massima poi con il tempo faccio un setting più preciso ma comunque per capire mi basta così dove per capire intendo dire se non si perde qualità audio ecco a me mi interessa anche quello come la voce ce l'ho abbastanza demerta se poi dopo si deve anche perdere qualità audio allora è finita per cui fatemi sapere nei commenti cosa ve ne pare di questa voce della mia voce questo video in sostanza sarà solo ed esclusivamente un parlato e quindi non avendo altro da aggiungere io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video ciao a tutti